Siamo tornati qua su Football Manager 2023 con il nostro Bari e il nostro maestro Giampaolo ovviamente Allora, l'inizio di campionato è stato assai intrigante ma ora ci aspetta la conferma Dobbiamo confermare il nostro stato di salute L'unica cosa che c'è se sai che sta male Io metterei Sangaré onestamente La Briola, la Briola, perché c'è la Briola scusate? Metti Veloso va per favore Incontrista, Giagello, Giagello, Giagello fin quando c'è E ci mettiamo qua Schmidt, il nostro amico Schmidt Pasquali, Ala no Mettiamoci Johnson Corrado va benissimo Perché Muaremovic? Cos'è sto giallo? Ah però non è ancora prontissimo Allora mettiamo Canestrelli Ci buttiamo Corbo e Celt Anche se non ha passato il test ma vabbè Poi Che facciamo? Siamo un po' messi un po' male onestamente La Briola Dobbiamo rifare praticamente tutta la squadra Perché sta cosa? Gomez E dammelo su Poi ci metto Sala Ci buttiamo dentro Nordstrom Ok Mekook E poi non saprei Il dodicesimo Chi potrebbe essere? Rauti Mettiamoci Rauti che comunque ultimamente non sta giocando male Allora Con la regina È complessa Perché la regina è una bella squadra ragazzi È onestamente una gran bella squadra Però 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 Dopo questo inizio così Bellissimo Io non Mi aspetto tanto Onestamente Dalla squadra Mi auguro che si possa confermare La squadra che abbiamo scoperto A inizio stagione Ok Bravo Johnson Piccolo Johnson Che brutto passaggio Johnson Mamma mia Vabbè È Randa però Bravo Randa Bravissimi Come giochiamo Ma come giochiamo Ma come giochiamo Con questo Sangaré In attacco Che ha fatto una roba bellissima Ok Abbiamo costruito un'azione bellissima Secondo me Con Sangaré Joao Corrado E Sangaré Oh si parte alla grande La partenza è buona La partenza è buona Continuiamo così Continuiamo così Vi scongiuro Schmidt Con calma Con calma ragazzi Con calma Ma come giochiamo No vabbè Ma cosa ha preso Ma cosa ha preso questo Buono il tiro di Randa Ma non basta Ma non basta No no La ripartenza Ok no Ok Già mi ero preso paura eh Della ripartenza Della regina Che poteva Prenderci in contropiede Con molta calma Con molta calma Bravissimi Sangaré Oh comunque Sangaré Gioca bene eh Gran bel giocatore Bravo Selt Eh ma che cos'è 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 Aranda Regina è un po' in difficoltà In fase difensiva eh Leggermente Selt Appena tornato Che bel passaggio Joao Aranda 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 Bari 2 Regina 0 Dopo 20 minuti Ammazza Una squadra Veramente Che sta giocando Un calcio Champagne Ormai Veramente Sembra essersi Ben in stradata Questa stagione Dovesse continuare così Veramente La promozione diretta Potrebbe essere Solamente una formalità Ma non vorrei parlare Prima di Ecco esatto Non vorrei parlare Troppo presto Bravissimi Aranda Ripartimi Passara Ok No ma perché Ma perché mi stoppi così L'emozione La felicità No Questo è un oltraggio però eh Giudice Questo è un oltraggio Eh Che cavolo Che cavolo Ok Allora Primo tempo che sta andando In archivio 2 a 0 Che dire Contento Eh eh Sì Sono contento Ammazza Se sono contento Non posso essere Altrimenti La squadra sta Veramente gestendo Bene la partita Selt Fra poco dovremmo Cambiarlo perché Sta un po' Andando in crisi Giustamente Tornata all'infortunio Giocarsela tutta Anche no Anche no Infatti No Però prima Finiamo l'azione Un secondo Con calma Selt Ultima azione Prima di uscire Bravissimi Bella la palla di Johnson No vabbè No vabbè No vabbè Non ci credo Che ci siamo magnati Oh Mamma mia Ma che ci siamo magnati Peccato Peccato Era buono Era buono Era buono Allora Canestrelli No Non volevo mettere Fuori Canestrelli Selt Ok Selt Mettiamo Sala E per il resto Corrado Corrado che anche Ammunito Io vorrei Evitare L'espulsione Come anche Johnson Vorrei evitare L'espulsione Mettiamo Vasco Vals Però Veloso E stanco Vabbè Mettiamo Andre Gomez Va bene Va bene Dai Va bene Così Vorrei evitare L'espulsione Onestamente Anche perché La squadra Non è che sia Così lunga Quindi Un'espulsione Potrebbe Recluderci Tanto Per la prossima Partita E vorrei evitare Se possibile Mettiamo Cortinovi Sì Tanto mancano Sette minuti Dubito che Accada L'imponderabile Dai Voglio essere fiducioso Sala Cross Abbastanza Rivedibile A dirla tutto Grazie Gentilissimo La regina Gioca con noi Sembrerebbe A momenti Vabbè Troppo gentili Troppo gentili E disponibili Che palletta Per Sangare No vabbè Ma cosa ha fatto Ma cosa ha fatto Sangare No Non può essere Fuori il gioco Non puoi Eliminare Quel gol Ma non puoi Ma non puoi Quella è arte Non puoi Eliminare L'arte Ma non puoi Eliminare L'arte Vabbè ci sta È fuori il gioco Ok ma non puoi È illegale Dai Era un gol Fantastico Peccato Peccato Veramente un gran peccato Ma Ma L'importante Era portarla a casa Ed è quello che È accaduto Anche Abbiamo anche Dominato in realtà Essere onesti L'abbiamo Abbastanza Dominata Al momento Siamo primi 10 punti In 4 partite È un buon Rullino di marcia Anche perché Abbiamo affrontato Squadre forti È una regina È il torino Quindi Non è che parliamo Di squadre scarse Eh ma Sangaré Ma che Sono i soldi Per comprarlo Quanto costerebbe Poi Sangaré Sì 11 milioni Certo Vabbè Niente Giaggello Ma Cosa Cioè Ma Giaggello Quest'anno È l'anno buono Perché Tu vuoi Far questa cosa Io non capisco Io non capisco Perché tu vuoi Andartene via È l'anno buono Cioè Sembrerebbe Sulla carta Perché Adesso Cosa c'entra Ora Sta cosa Morgan Rogers Non c'ho i soldi Figli miei Io non so Come dirvelo Comunque A gennaio Sotto consiglio Di Mister Pollicino Dovrò sicuramente Guardare qualche Svincolato Per l'anno Seguente Ah C'è il vecchio Ricci Ah Il vecchio Ricci Eh De Roi Sta a fa Una buona Crescita Ok Se Zai Ancora Non è pronto Purtroppo Però Abbiamo Sangherè Onestamente Non ne sento Molto la mancanza Eh Onestamente Caprodossi Sta ancora male Quindi niente Vabbè Andiamo così Andiamo così Celt Vabbè Si può fare Comunque 75 minuti Di conseguenza Perché Perché Non può Giocare Quello Cambierò Però Intanto Facciamolo Partire No Allora Siamo contro Il Cesena Cesena Spesso ci ha Fatto un po' Di sgambetti Quindi Se vinciamo Questa Potrebbe essere L'anno buono Adesso Io me la son Tirata Lo so Lo so Che faremo Schifo Tutto l'anno Io lo so Che soffriremo Come sempre Perché Perché anche a me Sembrava Vabbè Che abbiamo Una squadra Veramente Forte Ragazzi Dai Per la serie B Questa squadra È un capolavoro Vorrei Vederla Dal vivo Onestamente Con Aranda Giovedoso Sangaré Con Con Selt Brasau Cioè Gran bella squadra No Sangaré No Sangaré Era buonissimo Mamma mia Era un gran bel tiro Giagello Accorrado Accorrado Vabbè Niente Si è magnato Un passaggio Comunque Giagallo Sta onorando Bene o male Il contratto Perché sta giocando Abbastanza bene Giagallo Ma Senti Ti ho appena detto Che sei bravo Tu mi fai La reazione Negativa E allora Sai che c'è Io Visto che Sono un uomo Che agisce Di impulso Alle volte Mertiamo Cortinovis Dai Eh su Dai Vuoi essere negativo Da un'altra parte Grazie Visto che te ne vai Anche a fine anno Che te frega Ma che te frega Aranda No vabbè Io No vabbè Lì l'aveva passata Sangherè Le stai magnato Un po' di gol Ultimamente Va bene La bella prestazione Fatta Nelle ultime partite Ma oggi Veramente Ti sei magnato Due gol Limpidi Limpidi Eh Da su primo Magari meno Però questo qui Era abbastanza Fattibile Eh se torna Sesai Non so chi far giocare Onestamente La prossima Perché Sangherè In grande forma A parte che sbaglia Il passaggio Ma vabbè Questo è un altro discorso No 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 Bravo Brazao Bravo Brazao Giustamente Bravissimo Veramente bravo Berti Con calma Con calma Anzi Non troppa Perché vorrei tanto Andarla Andarla a vincere Questa partita Se mi è concesso Joao Che palletta Sì però Ragazzi Ma porca miseria Però Cioè dai Dai Eh Dagli un po' Con questa Concretezza Sottoporta Dai Su Dai Porca miseria Joao Aveva dato una palla Meravigliosa Meravigliosa Cioè Ma che roba Aveva fatto Bellissimo Tutto bellissimo Dopo questa Faccio alcuni cambi Però Non prendiamo gol Vi prego Non prendiamo gol No Vabbè Che rischio Ma che rischio Allora Sangherea Anche ammonito Però che ci metto Rauti Maldini Maldini Joao Eh Mettiamo Andre Gomez Johnson Ci butto dentro Vasco Vals Schmidt È devastato Dalla vita Ci buttiamo dentro Ah no Niente Andre Gomez L'unica L'unica E mettere qua Vasco Vals E mettere Qui Nostrom Eh sì Eh sì Selt è anche Munito E anche Stanco Mettiamo Salvatore Salvatore No Fidio i cambi Vabbè Selt Dai resisti 15 minuti Su Abbiamo una squadra Un po' Stanca In difesa Un po' Troppo Forse Dai dai Sveglia ragazzi Dai Portiamola a casa Non è che abbiamo fatto Tiri in porta Un po' Poco eh E' la passata No vabbè No vabbè Rega No vabbè No 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 Rientrami Bravo Corrado Che rischio ragazzi Dove va? Ma Maldini Dove c... Dove vai? Maldini Cioè dove cavolo vai? Ma veramente Fai o fai finta? No vabbè Cioè io Non c'ho parole Non c'ho parole Cioè Maldini correva Dalla parte opposta Dove c'era la palla No vabbè raga Ma che ca... Ma che ca... Comunque Cesena Cesena che si sta confermando Bestia Nerissima Non nera Nerissima Sempre complesso Giocare con loro eh No 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 Mamma mia Ma che cavolo Stiamo rischiando Raga Ma cosa stiamo rischiando? Pareggio Pareggio che ci va di lusso Onestamente Oggi veramente abbiamo rischiato La beffa Due volte almeno Eh Porca miseria Vabbè Siamo comunque secondi In classifica L'importante è non perdere L'importante è non perdere La prossima è col frosinone Prima in classifica Prima in classifica Di conseguenza Sarebbe importante Portarla a casa Sarebbe molto importante Molto importante Conte esaltato Va bene Caprodossi riprende ad allenarsi Molto bene A 60 minuti Caprodossi Però Selt è stanco Giustamente Che faccio io? Metto sala Eh Sì Per forza Mamma mia Si è messi un po' Come Come il porco Onestamente Si è messi un po' Maluccio Si è messi un po' Maluccio Come forma fisica Ecco Il frosinone Big match Big match Per Per la serie A Big match Per la serie A Qua si decide Tanto 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 Per il momento Ovviamente Poi Si sa che È solo l'inizio del campionato Bravo Brazau Che esce molto bene Sì ma ripartiamo Ripartiamo Che ci aspetti Questo casino Per lanciare in alto Ma veramente Fai Bravo Joao Johnson Johnson Bella la palletta No vabbè Abbiamo una sfiga Una sfiga Mastodontica Eh Ma a volte Nella sfiga C'è qualche fortuna Si spera Niente Smith Niente Non me la fa Vedè Grazie Gentilissimi Non dovevate Mamma mia Però Mamma mia Mamma mia Non stiamo Giocando male Anzi Staremo anche Meritando Guardando un po' Le statistiche Solo che Se non si butta Dentro la palla Puoi meritare Quanto vuoi Ma Nel calcio L'importante È buttarla dentro Ma porca Ma porca Ma porca Eh Siamo un po' Sotto porta Siamo un po' Così Un po' Rivedibili Oggi A parte La prima partita Anche lì Comunque Avevamo sbagliato Alcune cose Soddisfatto Comunque Siamo contro i primi In classifica Di conseguenza Posso essere soddisfatto Dai Per il momento Bravo Corbo Corbo Comunque Tutto fare Meraviglioso Corbo Meraviglioso Giagello Che palletta Sangaré E Joao È arrivato Joao Tornado Tornado Joao Joao Meravigliao Bello Bello Giagello Ha fatto Un'apertura Per Sangaré Sangaré Altruista Sangaré Altruista Bravi Ragazzi No No Ho sbagliato Ho sbagliato Raga Niente Ho sbagliato Ma porca Miseria Ho sbagliato A comunicare Ecco Mo' succede Il cataclisma Sta a vedere Che succede Il cataclisma Canestrelli Raga Raga Non mi convince Questa fase Difensiva Non mi convince Ve lo dico Joao Che apertura Fa Fuori di testa Sangaré Aranda Aranda No vabbè Come giochiamo Quando vogliamo Ma come giochiamo Joao Fa delle cose Che Cioè Sembra Chi mi ricorda Chi mi ricorda Tipo Pirlo In versione Più Più Portoghese Fa delle aperture Che sono meravigliose Di cosa vogliamo parlare Questo è il prospetto Futuro per noi È meraviglioso Ma anche Randa È meraviglioso Abbiamo due giocatori Già da serie A In realtà A noi Sangaré Purtroppo Non è nostro Joao Ancora Joao Meravigliau No vabbè Che meraviglia Che meraviglia Joao Che campione Ma io non sto più dietro A dire loda Non ci sto più dietro Era zero Frosinone No vabbè raga Se non si va in serie A Quest'anno Io mi dimetto Ve lo dico Io mi dimetto Perché è impossibile Non andarci quest'anno Dobbiamo andarci Dobbiamo andarci Costi Quei che costi In serie A Dobbiamo andarci Allora Corrado Sì in effetti È un po' morto Mettiamo Sala Il fratello Veloso Un po' di riposo Perché comunque Ha già finito La sua partita Schmidt Ci butto dentro Che ci butto dentro io Andre Gomez Mettiamo Nordstrom C'è un po' di rotazioni Sangaré riposa Mettiamo Maldini C'è un posto Per Rauti Ma va là Ma quando mai Benissimo Però dai Facciamo riposare un po' Sangaré Anche Randa Volevo farlo riposare Ma mi è impossibile Quindi Joao Se la merita Un po' di riposo Dai Partita mostruosa Mostruosa Di Joao Però non vorremmo andare in vacca tutto In questi 20 minuti Ragazzi Non vorremmo andare in vacca tutto Bravi Giagello Per Maldini Maldini Vasco Mamma mia Vasco Fisicamente zero eh Sala Canestrelli Giagello Maldini Pure Maldini No Non è fuorigioco Ma non può essere fuorigioco Scusate Ma in quale il multiverso È fuorigioco Ma cosa Cosa Ma vabbè Che sfiga Bravo Maldini Comunque che si è fatto trovare Bravo comunque Maldini eh Veramente bravo Io lodo ancora Perché Mostruosi oggi eh Un clean shit Non mi farebbe male Non piangerei Da crime amare Per un clean shit eh Non so a voi Ma io sarei molto contento Nordstrom La prende Buono il passaggio Per Aranda Vabbè ragazzi Ma di cosa stiamo parlando Ma basta però eh Eh amico mio basta Dai Dacci Dacci questa gioia Del 4 a 0 Su Ma porca Maldini Ma che hai fatto il corso Per essere sempre in fuorigioco A parte che non si vede una mazza Scusate eh Ma che replay è Un replay più Più falso di questo Non si era mai visto Comunque Ok Perfetto Vabbè niente 4 a 0 Non possiamo farlo Sarebbe troppo in effetti Dai Poverini Non voglio Demoralizzarli Su Allora Benissimo Vittoria Vittoria Cioè Vittoria Di una meravigliosità Inaudita Siamo primi Zitti tutti Che qua succede Il miracolo Che bravo Aranda Eh lo so Lo so Lo so Bravissimo Aranda Veramente Bravo Aranda La prossima col Perugia Che faremo la prossima volta Ecco il Perugia L'anno scorso Ci ha fatto un po' sudare Il Perugia Il buon Perugia Allora Ammazza Quanti giocatori Chi è questo Mariano Guarracino Ma sinceramente Sinceramente Pare anche a meno Test fisici Ma c'è un modo Per Finanze Vabbè Non posso ancora Richiedere Il miglioramento Del budget Facciamo Un nuovo contratto Non mi interessa Neanche in realtà Bene ragazzi Direi che per oggi Può essere tutto Gran bel episodio Un pareggio Due vittorie Due vittorie tra l'altro Molto pesanti Contro la prima in classifica Cioè il Frosinone Quindi E la regina Che sta comunque sesta Quindi scontri diretti Si è messi bene Si è messi veramente bene Anche perché le prime Le avevano tutte affrontate Cesena Torino Frosinone E regina Cioè Tutte affrontate Ragazzi Tutte affrontate Dovremmo andare solo contro le piccole Da oggi in avanti Per il momento Speriamo bene Ragazzi Vi ringrazio tanto Io Noi ci becchiamo Al prossimo episodio Quindi Alla prossima Ciao